Vin Italy 2023, sono da Fonte Zoppa, sono in compagnia con Mosè e mi sta facendo assaggiare un vino straordinario, veramente eccezionale. Sapete che lui fa la Ribona? Beh, ne fa una versione che è questa, Asola, che fa finalmente in legno. Intanto vedo che è una bottiglia numerata. Sì, Mauro. Beh sì, purtroppo ne facciamo poche all'anno, riusciamo a farne solo 1207 bottiglie. L'uva si chiama maceratino, Mauro, ma tu ormai la conosci e la doc si chiama Ribona, è un dialetto maceratese diventato nome di una doc. Ribona, due volte buona. Due volte buona. Forse questa anche tre, Tribona. Grazie. Questa è una bottiglia speciale perché in questo caso è una 2019 che affina un anno e mezzo in barrique nuove con una tostatura molto lieve. Viene fatta per l'85% con l'annata 2019 e poi mettiamo all'interno un pizzico di 2011, grandissima annata e 2016, straordinaria annata e viene fuori l'Asola. E viene fuori un vino incredibile. Il colore è di una intensità incredibile ed è luminoso. Al naso c'è sì la lavorazione del legno, ma è di sottofondo, vengono fuori tutte le note fruttate, il pompelmo, l'agrumo, il cedro, l'ananas. E in bocca è sorprendente, un vino che fa affinamento in legno, che a me di solito piacciono tantissimo, ma è pieno, rotondo, si sente la nota vanigliata. Ma qui la prima sensazione è la freschezza, la fragranza e tutto il resto fa un po' da contorno. È piacevolissimo, vengono i prividi. 13 gradi e mezzo che non si sentono assolutamente, la parte eterea non esiste, viene fuori solo la parte fruttata. Mosè, complimenti. Grazie Mauro, grazie. Io aggiungo solo una cosa alla tua splendida descrizione, che questo vino qua ha un ingrediente in più, che è il vento, perché ci porta nelle nostre vigne lo iodio dell'adriatico e credo è quello che dà la parte sapida. Esatto, molto molto sapido finale. Sì, ma resta comunque equilibrato, non è la sapidità che dà lo spigolo, che dà il picco, resta nel finale questo un po' di salato che in realtà è quello che ti invoglia a berne un altro lozzo. È vero, è vero. Io non posso che ringraziarti per avermi fatto assaggiare questa novità, questa particolarità, ma so che tu sei un vulcano di idee. Fammi assaggiare qualche altra particolarità. Mauro, guarda, ringrazio intanto Acino Nobile, Mauro, Dario. Ti mando via con un distillato di Ginepro. Un gin agricolo dove il Ginepro nasce nelle nostre vigne. Si chiama Ginpepe. Pepe. Sì, perché non poteva essere altro che Ginpepe perché nasce nella nostra vigna di Pepato, a Serra Petrona, assolutamente. Spero ti piaccia. Lo assaggiamo. Ginepro.